Si dice quasi sposato a vita con la Taranta. Sì, in realtà forse me lo aspettavo soprattutto come si è dato il campionato. Veramente sono molto contento di essere della Taranta e soprattutto di continuare qua che mi sono sentito più che bene. Ma pensi che c'è di chiudere la carriera qui a questo punto? Oppure magari poi quando avrò 35-36 anni torno in Argentina magari? Ma adesso penso solamente al presente, poi il futuro sicuramente è per analizzarlo. Non posso dire mai niente quando il calciatore tira la fine non sai mai che cosa fa. Però per il momento è un contratto lungo, sono molto contento e la mia testa è fino al 2016. Possiamo dire che è stato convinto l'uomo Denis, oltre che il giocatore? Per come ti sei trovato in città, per come si è trovata la famiglia, per come ti ha accolto anche la gente qua a Verbo. Sì, sicuramente, è tutto insieme. Mi sono trovato più che bene nella città, soprattutto alla società che veramente, se devo dire la verità, non me lo aspettavo così. Sono veramente sorpreso, sono contento e anche molto felice. Grazie. Grazie.